Musica Strano avere prima l'intro e poi cominciare con il video Perché vi parlo così? Perché se vi ha colpito il tratto strambo e comunque diciamo l'horror fantasy di Doro e Doro Bene sì ragazzi, è stato pubblicato anche Dai Dark, il nuovo manga di Kuai Ashida che è in corso in Giappone Pubblicato in Italia da Planet Manga al prezzo di copertina di 7,50€ Quindi se siete stati abbastanza come me amanti dell'altra sua opera forse potrete apprezzare anche questo Ma lo scopriremo nel corso di questo video perché prima di tutto vi parlo della trama Ed eccola qua, ce l'ho tra le mani ovviamente, viene in soccorso l'enciclopedia più famosa del mondo Salazanko è un alieno dell'oscurità famoso in tutto l'universo come il tesoro più prezioso dello spazio Perché si dice che chiunque riesca a impossessarsi delle ossa possa esaudire qualsiasi desiderio Il ragazzo per questo vive continuando a lottare e fuggire, aiutato soltanto dal compagno robot Abakian Credo che si pronunci così Capace di trasformarsi in uno zaino che Zaha porta sulle spalle, è detto sacca dell'oscurità In realtà all'interno del manga è detto in maniera diversa, fatemi vedere se riesco a trovare anche questo coso Dovrebbe essere il bagaglio scuro, il bagaglio scuro infatti è detto all'interno del manga E il suo obiettivo è trovare chi offre desideri per le sue ossa, così da ucciderlo e poter vivere finalmente in pace Allora questa è la premessa che viene fatta per Die Dark L'università è piena di meraviglie, una tranquilla giornata di shopping Vabbè qua è un po' quello che andiamo a vivere nel secondo volume Ma partiamo e andiamo con ordine Partiamo dallo stile di disegno Stile di disegno che per chi conosce Kuai Ashida è praticamente molto strambo A parte è riconoscibilissimo rispetto a tutti gli altri Questo è lo stile di disegno di Kuai Ashida E per chi conosce Dore d'Oro giustamente è un po' più già semplice da riconoscere per lui Magari per quelli che invece non conoscono il primo Potrebbero apprezzare questo tratto molto particolare dell'artista Stile che comunque mi aveva già colpito perché sto continuando a leggere l'altra sua opera E che comunque ritroviamo in questa storia Storia Dark Fantasy Questo che abbiamo tra le mani è uno show in Dark Fantasy E il fatto è che la cosa bella è che il tratto io credo sia perfetto Per quello che è il mondo di cui lei ci parla Di questo mondo strambo che ci racconta Perché lei ha rivisitato un po' il fantasy Un po' la parte magica Rimescolando un po' il tutto E mettendoci all'interno un bel po' di cose strambe Almeno questo è per quanto riguarda Doro e Doro E per quanto riguarda anche la prima parte di Dye Dark Credo ci sia la stessa cosa E appunto come vi dicevo prima Lo stile di disegno ricalca benissimamente questo mondo Dove noi andremo a trasportarci grazie alla lettura Ma dobbiamo proseguire perché Cerco di fare le cose un po' più brevi rispetto a prima Abbiamo la caratterizzazione dei personaggi Caratterizzazione dei personaggi che In questi primi due volumi Sembra molto lenta Nel senso che stiamo vivendo Stiamo conoscendo sì vari personaggi Perché stanno venendo inserito all'interno della storia Vari personaggi Ma che non abbiamo ancora nulla di approfondito È vero che in soli due volume Non possiamo pretendere chissà Quale approfondimento dei personaggi Ma piuttosto che dei personaggi stessi Stiamo cominciando a vivere qualcosa intorno Quindi per quanto riguarda la caratterizzazione Vera e propria di personaggi Sì sono fatti magnificamente Per quanto riguarda lo stile Per quanto riguarda la caratterizzazione estetica Del personaggio stesso Perché sono fighissimi A parte che poi Per una buona parte li vedremo vestiti Con queste cappe lunghe Ma anche quando poi si palesa Diciamo l'anatomia del personaggio Il personaggio senza le sue vesti Allora li riconosciamo Veramente il merito all'artista E questo è per quanto riguarda alcuni personaggi Alcuni personaggi sono divertenti Altri sono strambi Come forse per la maggior parte di loro E alcuni personaggi ci lasceranno Col fiato sospeso Quando li vedremo senza vestiti Tra virgolette Per la prima volta Tipo Shimadadit Ecco non aggiungo altro In merito Questo è per quanto riguarda La caratterizzazione dei personaggi Che forse Nei primi quattro volumi Forse già nei primi due Venivano già spiegati diversamente Nell'altra opera Quindi sto facendo un po' un paragone Con Dore d'Oro Cosa che molto probabilmente Non dovrei fare Vi dovrei parlare solo di The Dark Ma per quanto riguarda The Dark Appunto due volumi Mi sembrano pochettini Specialmente Per quello che è il modo Di raccontare la storia dell'autrice Infatti passiamo Alla storia stessa Perché vi dico questo? Perché nei primi volumi L'artista sembra Che ci stia facendo Conoscere quello che è il mondo Che circonda i personaggi Si Sta inserendo quasi un personaggio Per volume Oltre i due principali Appunto Sarazanko E Abakyan C'è l'astronave Che in realtà Ha anche un'entità Viva E quella È fighissima come cosa Perché è divertente L'identità stessa L'entità stessa Dell'astronave E poi c'è questo Shimadadit Che appunto Ci viene fatto conoscere Già nel primo volume Ma nel secondo Conosceremo qualcosa in più A proposito di lui Io mi devo fermare Poi perché altrimenti Rischio di spoilerare Quindi anche qui La storia Si prosegue Ma molto lentamente Vedremo degli scontri Ma chissà Manco tanti Solitamente abbastanza rapidi Perché si deve concludere tutto Quindi Ci sono degli scontri Sono brevi La maggior parte Appunto Sembra quasi che si stia Ponendo l'attenzione Sulla vita quotidiana Dei nostri protagonisti Perché Perché ci si vuole Forse Si vuole far sì Che il lettore Possa capire Qual è il mondo Che sta andando a vivere E magari Nei prossimi volumi Troveremo qualcosa Di più interessante Più entusiasmante Perché Perché Vabbè Basta fare paragoni Allora Vi dico le mie note personali E Qual è la cosa Principale Forse io vengo Dalla lettura Dell'altra opera E di conseguenza Cerco di fare il paragone Come è successo purtroppo In questo video Allora Die Dark Non mi dispiace Ma nemmeno mi fa impazzire Questa è una cosa Forse il mio hype La mia aspettativa Per questo manga Era fin troppo alta Perché Perché I personaggi ci sono belli Sono fighi Il tratto È una delle cose Che mi tiene ancora legato Al volume Quindi Farò in modo Da avere anche Il volume 3 Comunque acquisterò Anche il volume 3 Proprio per scoprire Come andremo avanti Ma spero che In 3 Massimo 4 volumi La storia Cominci ad aprirsi In un determinato modo E cominci a farci Comincia Ci farà scoprire Ecco Altre cose Cosa fondamentale Perché alla fine Va bene Uno scontricino Ogni tanto Ci fa anche contento Però Vivere così tanto Forse quelle che sono Le giornate Del personaggio Non è il massimo Piuttosto Vorremmo vedere Qualche altra cosa Ecco Vorremmo vedere Già da Non dico perché Ormai il mondo È così frettoloso E quindi Vogliamo tutto subito Però diciamo Che velocizzare Leggermente Questa parte Per appunto Consentire Agli spettatori Ai lettori In questo caso Di capire meglio Dove stiamo andando In quale direzione Stiamo andando Allora potrebbe essere Fondamentale Nei prossimi volumi Perché poi Arrivato al tot di volumi Uno smette di collezionare Perché dice A non so quanto durerà B se nei primi 3-4 volumi Non so ancora nulla Di quella che è la storia Verra e propria Allora a questo punto Io preferisco evitare Quindi Ragazzi Al momento Il mio è un po' Un ni Sul consigliarvi Dai Dark Cioè vi dovrà piacere Proprio lo stile Mettiamo così La cosa fondamentale Di Kuai Ashida E poi forse Il mondo Che sta andando a creare E allora È più verso il sì Ma se siete un po' Estranei Al suo modo Di raccontare Allora per me è un no Piuttosto andate Verso d'oro e d'oro Che potrebbe fare Già più a caso vostro Comunque È un manga Un po' più figo Già dall'inizio Ecco qua Allora Per questo video è tutto Io vi ricordo di lasciare un like Se il video vi è piaciuto Di commentare Dicendomi se avete preso Se non avete preso Se avete letto Se non avete letto Dai Dark Cosa ne pensate in merito E ovviamente Iscrivervi al canale Vi do appuntamento A un prossimo video Vi saluto Come sempre Dicendo Sayonara